o benvenuti a tutti in un nuovo video oggi faremo l'arena compone il mazzo scelendo tra carte casuali e proprio va va tra carte casuali va bene grazie nessuno di tre mi piace troppo aspettate ok ma sta delle spade ferito perchè no 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 eh un'altra volta no ti prego ehm lui 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 allora qualche carta questa tipo questa a me magari capisco cosa sovraccarico ehm questa questo mi piace vai vai oh però credo dia carte casuali più che altro vai 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 questa lui carica e infliggere 5 danni io preferisco questa 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 ehm con lo scudiero questo questo lui e berserk a giudicare quanto è la carta sovraccarico ho preso quanto anche lui 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 mi sento indisposto ehm fuori del vento nice mago sogra un po' la cazzo però come mazzo allora la rima non era voluta tranquilli potrebbe sembrare la rima non era voluta allora vediamo 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 vuoi provare a fare tre partite se le ho preso tutte e tre ho perso il mazzo per adesso dei miei avversari nice Gino va benissimo va benissimo allora se metto fuori del vento solo che c'è fuori del vento che fa? doppio fuori del vento pam 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 proprio attaccava come se non ci fosse un dopodomai l'unica cosa che mi fa porre è che lei attacca per primo quindi se la gioco adesso potrei morirci quello con provocazione? no mi devo giocare di totem con lo sciaman ma l'unica cosa che mi fa porre è che lei attaccava? ma che l'unica cosa che mi fa porre è che lei attaccava? no 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 pom pom ecco l'unica carta che mi faceva danno l'ho presso uè no non ti fa allora ma mi vendico allora uno e uno due finito ah ho già capito sovraccarico cosa fa non avevo dire già come una cosa adesso e adesso con questo mi attacca questo poi con questo mi metti la questo già lo so purtroppo ho fatto una boiata e vabbè ah no vabbè al contrario fa ho una armi perchè mi ha giocato? pronta all'azione attacca attacca non mi piace molto sto mazzo che ho fatto abbo eh sì 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 eh eh aspetta che vado in bagno un po' lì tipo che quello deve andare sempre in bagno mannaggia e dopo che lo concedi allora dimmi che è quello la con potenza magica? no preciso 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 però se non torno gioco il worgen fuoriente e il diavolo di sabbia questo lo sento questo lo sento già già oh? carino salve è l'ora di uccidere ah quando viene danneggiato c'è cosa l'odio tu non prendere cadela che bellissimo che è c'è una brutta idea per dopo finito finito è quella come me la butti giù e me la trasforma tristezza ah 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 dobbiamo prendere cadela vai attacca beh che bello che è e mo me l'ammazzo eh ma va davvero das dingo eeeh optere per no eeeh buttiamo questa totem lasciamo tutto tanto ora come ora o me la trasformo non mi può attaccare eh vabbè dimmi che c'ha culo lo so primo almeno ah ah quello non me la dovevo buttar giù mi serviva eeeh ah 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 devo vedere una qua mannaggia a questo torno potrei giocare queste due questo lo sentirò ma malamente agia 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 eeeh dov'ero fare così ah quando ho giocato una carta sopra a carico io eeh Ehi dammi un minuto Aspettate un secondo Ok ce ne sono Eh ma ha buttato giù una pirosfera Ma ha tolto 11 di vita Allora gioca dai Dopo provo a sboostare anche una pacchetta Tanto ho appena già fatto anche il 140 Speriamo in qualche epica o leggendaria Nell'ultimo video sono stato fortunato E ho trovato il golem di Labla Magma Malfurium Mi vanno bene sta carta Gioco questa qua Per un motivo ben preciso Ora utilizzo questa carta qua C'è questo potere Ah no gioca a lui direttamente Ok Io invece giocherò questa carta qua Anzi no Poi scoprivo una carta Attacco E passo Ora mi giocherò un'altra carta Che non so qual si Non credo si attiverà L'abilità Ah no si è attivata E mi ammazzerà questa carta qua E' furbo la mica E' furbo Mi sento indisposto Mi sento indisposto Bellissimo Finito Se mi attacco con l'eroe E' un genio proprio Però credo che Con questo mi attaccherà questa E con questo attaccherà questa Però farebbe meglio il contrario Ok va bene comunque Così si pilla Tre tanti Gratuiti Provocazione Non mi serve Così che se gli attacco Con la carta Deve muore subito Bellissimo Quella personaggio È il momento di sparci rosa Sì Compa Sì Compa Finito Finito Bella Dovevo Carftare Voglio vedere se si può Dovebbe costare 600 Se c'è una carta Con provocazione Basta alla fine Devevo vedere se c'è un'altra Che dà Che armatura O direttamente La vita Aspetta Mannaggia Mannaggia Eh non lo può dare se stessa Allora gioco lui E gioco lui E' una montagna Sto cosa Come la vuole buttare giù Ma vedi che me la butta giù C'è manco tipo troppo male Bellissimo Poi c'è da che è già morta Allora Allora facciamo così E così Poverino Poverino L'eroy jackins L'hanno fatto a tempo Troppo scarsa E' tipo Un Non so Poverino 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 Aprite i cancelli Aprite i cancelli Ness Sto coperto Dopo Se regge Regge Se no devo pensare In un altro modo La frate Poi c'è Devo proteggere La terra Aia Aia Doppio Poi c'è Doppio Per buttare giù Prima Questa cosa Se dura un altro turno Gli metto Fuori Del 20 Via Anzi no Al prossimo turno metto lei fuori del vento Ancora l'Evvocato che già si è trasformato Allora gioca a lui Guarda indietro Mi piace molto quando attacco con la carta Managio sto goblin Ok Mo' mi butterò giù due carte a minima E si potenzia quello Si E' con quello ma No non ho capito la massa che volevo fare Ora l'ho capito Mi sento indisposto Senza problemi Prossimo turno So già cosa vuole fare Mi attaccherò col Trento con l'altro E Non male Eh cacchia Ho sbagliato Dovevo prima giocare a Miltotum a sto punto Vabbè non potevo saperlo Non capisco perché mi attacca le carte e non Non direttamente Devo solo trovare una carta con provocazione e sto apposta Ottima carta Mi piace sta carta ma Ecco le carte che c'erano me la può non dare subito A me che non c'è una carta con carica Oppure una carta che potenzia La sua creatura E questo turno dovrei aver vinto No Ok Va bene E non ho questa Ottimo quello che cercavo proprio Doppia carta che mi cercavo E ora come la mettiamo Come la mettiamo Vediamo Niente Praticamente sarebbe senza il vestito là Eh silenzandomi cosa fa Eh non ho provocazione Quindi Mi attacchi quest'altro E dopo mi attacchi direttamente E non ti cambia nulla Ah sto gioco Gioca prima a questa Eh questa Provocazione Vai Vinta Vinta Ottimo Sciomano Livello 12 Ottimo Ogni vittoria Migliorerà la tua ricompensa Ottimo Gioca Poi farne una terza E dopo spacchettamento Che troveremo? Più che altro sono curiosi Non mi è vicino Paladino maledetto Corriere disarmato Ok Adesso volevo Un guru Disarmato Cambierai Questa carta Anche Anche se è buono Questa Dovevo Annullare subito Perché se c'è Ammazza Murloc Sono finito io Non c'è Per sfortuna carica Se no L'avevo già attaccato Al prossimo Allora non giocherò Vediamo cosa mi capita Ottimo Uno costa Finito No perché lo devi vincolare Questa uno Questa uno Me ne è occupato Tre Praticamente Sto capito Ogre e magi Sono pronto Io non sono pronto Ah no ok Mago sogra In realtà Vabbè che se la canta Vediamo Vediamo Che vince Dai dai Su su Tanto so che mi vorresti attaccare A questo Aia Ok mi attacca Questa qua Per forza Uno E dopo due Ah no Ah è babbo Lue Ah già Non è tanto babbo Mi correggo Ah no Ah no Ah no Paffa no no notizzo aia gioco questa e quest'altra E cosa vuoi? Non provocare me Ogni volta che leggo provocazione mi viene in mente quella Nel prossimo turno posso giocare 5 mana Totem E' una tempesta di fulmini Potrei attaccare anche senza scuola Potrei giocare a questa ma non lo faccio Totem Non è quello che mi serviva a me Ok Con questa cosa non mi potrei buttare giù il mio provocazione Quello non mi piace Allora Facciamo così Non so già cosa fare Va bene Allora con questa attacco questa Attacco 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 Agia Non mi piace mai quella carta a me Perché ha pescato pieno di mio babbo? Non voglio sapere Non voglio sapere Eeeh Opto per qualcuno con provocazione Va Eeeh Babbo Non dico cosa sembra Un attacco Un attacco inutile Però ora resisterebbe Ancora attacco Ok Agia Non puoi potenzare di uno Quindi mi attaccherai Si Non puoi fare altro Non so già cosa fare a questa torre Non era quello che volevo fare Oh Ho messo in difficoltà Non so già cosa fare Allora Ok Vai Attacco Non resisterebbe Un turno Non è più Ho vinto io Bravo Beh Uh Così non so Il 13 Va bene dai A questo giro Spacchettamento Indietro Eeeh Negozia Una busta Acquista Nice Eeeh Poi qua Apri busta Dai Scena leggendare Sylvanas Sylvanas Rara Non mi piace Niente Eeeh Pupup Ok Ho Queste tre carte Da shardare Più questo Allora Collezione personale Eh Disincanta Poi andiamo di qua Questa Disincanta Sì 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 E poi andiamo di qua Anche tu Verrà disincentata Anche se sei simpatico Mi piace molto Questa Stacrattore Work after Un'altra che poter Shardare Questa qua Questa qua Perché mi sembra Troppo da Warlock Verso di qua Ci dovrebbe essere Un'altra Carta Che dovevo Shardare Non era Questa Dov'è Eccati qua No Dove di questa qua Direttora Drogo di Disafira No La tengo Questo va benissimo Per cose Per il Ladro Via Voglio arrivare 200 di Cosa Questa qua Voglio Sylvanas Questa qua è forte C'è la Sandra Mangio Lui E poi Questa qua È tipo Troppo forte Però è Del Warlock Cosa posso Creare Adesso Spezza Magia Non l'ho Sciordata Questa qua Non lo ricreo Comunque Nel caso Carina Questa qua Ma non mi piace Tecno Controllora Useless Useless C'è Forse Si Degliano La carta Con rabbia Questa è Bella La prendo Appena La riesco Lanciatore Di coltelli Praticamente Ogni volta Che Un mostro Viene evocato Lui tira Un coltello Veramente Buono Come Carta Però Sto ancora Pensando Se potenziarmi Il mazzo Del Ladro Oppure L'altro Vediamo 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 qua Capi Deffius Questo Me lo potrei Fare Due Se no Con Lui Potremmo Fare Tira Esplosivo Può Carino Come La carta Lo Sciamano Invece Anche se Non mi sta piacendo Molto Grupi Spettrali Spirituali Bellino Alla Here Questo Qua è fortino Però se si potenzia È ancora meglio Dai Poi vedremo Per adesso Ci accontendiamo Quindi Al prossimo video Ciao Ciao Ah Al prossimo video Si continuerà Qua sopra Next Ramas Ciao Ciao